Adesso faremo una meditazione di Kung Kong se non l'avete mai fatta vi garantisco che ho qualcosa di veramente potente vi prego visto che saranno delle vibrazioni che saranno in certi momenti saranno creerò di chiaro scuro tra queste vibrazioni che serviranno un po' come quando puliamo si fa ribollire per effetto del sapone se volete il grasso e poi viene rilasciato pulito, risciacquato così potete seguire le vibrazioni potete tenere gli occhi aperti, io se come preferite vi consiglio di stare aperti fino ad avere chissure particolari e di pensare semmai a qualcosa che vorreste realizzare, ma non è obbligatorio perché comunque questo è un trattamento quello che farò è un trattamento di pulizia va bene? Grazie mille non ci sono un prevedo rumore posso andare? Vado a pulito ok non ci sono un prevedo rumore non ci sono un prevedo rumore è un prevedo rumore non ci sono un prevedo rumore Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.